Bella a tutti frienze e benvenuti in un nuovo video, ci troviamo su Fortnite In questa challenge dovremo andare ad infliggere danno agli avversari attraverso le pompe di benzina Beh, ecco, questa è la mappa aggiornata dove potete trovare tutte le pompe di benzina all'interno di questo capitolo 2 di Fortnite Ce ne sono ben 5, io vi consiglio di eseguire questa challenge all'interno di lista squadre Così a seconda di dove passa il bus della battaglia, voi vi potete buttare e cercare di infliggere danno agli avversari tramite le pompe di benzina Oppure potete eseguire una seconda strategia, io mi trovo qui a Borgo Bislacco e credo sia la miglior pompa di benzina Perché rispetto alle altre zone che vi ho indicato ci dovrebbe scendere più gente Magari lasciate un bel succulento loot qua per terra, una roba del genere Vi nascondete, vi boxate o comunque non vi fate vedere dagli avversari Quando si avvicina un nemico nella speranza che sia un bot Fate questo lavoro e sbada bim, sbada boom Andate a infliggere danni agli avversari Provate ad utilizzare una di queste due strategie Quindi o in lista squadre ma dovete essere davvero molto veloci Oppure questa trappola che vi ho fatto vedere anche in modalità singolo Se ci sono dei bot magari vi fate rincorrere fino a questo punto e poi sparate alla pompa di benzina Oppure potete mettere questa trappolozza qua per terra, vi nascondete e sparate Spero che questo video vi sia stato utile Lasciate perciò un bel mi piace Mi raccomando se mi volete supportare gratuitamente in uno shop potete inserire il mio supporto a un creatore Che è rasco, trattino un basso, omg Grazie mille a tutti quelli che mi supportano e mi supporteranno all'interno dello shop Mi raccomando condividete il video con i vostri amici Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina Perché sul canale sono già presenti tutti gli altri video inerenti alle challenge di oggi Noi ci vediamo negli altri video e le belle Mesami